Sulle morti sospette che potevano essere legate alle fonderie Pisano sono intervenuti i periti della Procura che hanno confermato che non c'è prova scientifica del nesso di causalità. Il sostituto procuratore Roberto Penna archivia l'inchiesta con un provvedimento controfirmato dal procuratore aggiunto Luca Masini. Gli indagati per reati ambientali erano i cinque eredi dell'azienda di lavorazione della Ghisa per il quale adesso l'inchiesta è definitivamente chiusa. A presentare la denuncia fu il Comitato Salute e Vita con una lettera denuncia nell'ottobre del 2016 portata nell'ufficio del procuratore Penna sulle morti sospette. Adesso dopo due anni l'archiviazione sull'inchiesta.